28 gennaio 1912, nasce nel Wyoming Jackson Pollock. Influenzato da giovane dalla pittura murale messicana di Diego Rivera e successivamente dal surrealismo, diventa il massimo rappresentante di una corrente dell'espressionismo astratto americano, detta action painting. La sua pittura si viene caratterizzando alla fine degli anni 40 per il ricorso alla tecnica del dripping, cioè lo sgocciolamento dei colori sulla tela, identificando in tal modo l'artista con l'atto stesso del dipingere. Muore in un incidente stradale l'11 agosto 1956.